Nuovo colpo di scena nell'appalto per l'abbattimento del vecchio ospedale. L'AS Toscana Centro revoca l'aggiudicazione provvisoria al primo classificato a favore del secondo. Il motivo sarebbe da imputare ad alcune dichiarazioni mendaci riscontrate sui subappaltatori relative all'esistenza di procedimenti giudiziari in corso. In sostanza, dal controllo effettuato dagli uffici per procedere all'aggiudicazione definitiva, è emerso che i documenti della prima classificata, il raggruppamento temporaneo di imprese composto da DAF Costruzioni Stradale di Milano, Garche di Carpi ed il Motor di Roma, non sono in regola e anzi presentano difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di gara. Si passa quindi al secondo, la del Debbio di Lucca, che tra l'altro aveva presentato una richiesta a cesso atti per procedere a un eventuale ricorso. Il fatto che si passi al secondo classificato non significa certo che ora il cammino verso l'apertura del cantieri sia in discesa. Vediamo i possibili scenari. Intanto la Toscana Centro deve controllare anche i documenti della del Debbio. In caso di regolarità può procedere all'affidamento definitivo. La DAF però può presentare ricorso al TAR contro la sua esclusione con richiesta di sospensiva della gara. Se il TAR accogliesse quest'ultima richiesta, l'apertura del cantiere subirebbe un ulteriore nuovo slittamento. Altrimenti la del Debbio potrà iniziare a lavorare. Questione Maxi Pinza, l'enorme strumento arrivato in città il 27 dicembre scorso con un trasporto eccezionale dovrebbe restare dentro l'area del Misericordia e Dolce in attesa degli eventi. Nel caso potrebbe essere trovato un accordo tra le due aziende, ma è ancora troppo presto per dirlo con certezza. Grazie a tutti.